buongiorno e bentornati in questo nuovo video prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale lasciare like attivare la campanellina per essere sempre aggiornati come possiamo vedere dopo una paura che si avrebbe nei primissimi giorni di febbraio con alta pressione e temperature ben più midi rispetto alle attuali a partire dalla giornata del 6 ritornerebbe un nuovo tacco gelato direttamente dal nord est europeo riportando già dalla giornata del 7 termiche fino alla meno 10 in tutto nord italia e a termiche leggermente minori invece nel centro sud nella giornata dell'otto invece dell'otto del nove del dieci avremo termiche permanenti tra la meno otto e la meno dieci per tutti i tre giorni in tutta la nostra penisola isole comprese e avremo delle variazioni veramente minime stessa cosa anche per la giornata appunto del dieci e dell'undici con termiche appunto tra la meno otto e la meno dieci ma attenzione perché l'undici si comincerà ad avvicinare una massa veramente di aria molto fredda sui balcani che entrerà appunto tra il dodici e il tredici portando addirittura termiche sulla pianura parana fino alla meno sedici meno diciotto localmente anche meno venticinque meno ventotto sulle alpi termiche invece intorno alla meno dieci nel centro sud ovviamente vista la distanza temporale serviranno ulteriori aggiornamenti quindi vi invito ad essere ad iscrivervi per essere sempre aggiornati con gli aggiornamenti dei prossimi giorni per ora è tutto quindi vi invito ad essere ad iscrivervi per 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 essere ad iscrivervi